Buongiorno, grazie di questo bell'invito e grazie soprattutto di stare con voi perché siete voi che date del tempo prezioso a me. Io faccio queste lezioni molto volentieri a un'unica condizione, e ve lo dico subito, che quando parlo non è che vorrei silenzio, vorrei che quando avete una domanda alzate la mano e io mi fermo appena possibile. Quindi non sarà una lezione tradizionale dove c'è il professore impolverato che esce dai suoi libri e parla a se stesso, ma sarà un dialogo con voi. Io vi racconto delle cose, spero interessanti, se accusate per esempio di narcolessia, alzate la mano, mi sto addormentando, c'è rotto le palle, abbiamo capito, andiamo oltre. Ok? Facciamo così, io questo, diciamo alla regola di ingaggio che vorrei mettere in questo incontro di stamattina. Loro sono stati generosi perché mi vogliono forse bene o fanno finta di volermene. Al di là del Vaticano, poi magari ne parliamo se avete desiderio e interesse, oggi siamo qui per parlare di un programma televisivo che si chiama Quarto Grado, questo programma che conduco tutti i venerdì alle 21.15 su rete 4. Allora, faccio delle premesse, a volte magari dico delle cose che per alcuni di voi conoscono, però una delle regole della televisione è che non bisogna dare mai nulla per scontato. A, B, C. Perché quando si parla in televisione abbiamo di fronte un telespettatore che può avere tre lauree, ma abbiamo di fronte anche la signora Gina che magari non capisce. Quindi bisogna avere un linguaggio semplice, diretto e un linguaggio semplice non vuol dire essere stupidi o essere ignoranti, ma permettere agli altri l'ingresso nel racconto che tu gli proponi. Se tu hai l'ingresso nel racconto, hai la possibilità di fidelizzare il telespettatore che ti tiene lontano da quella macchinetta infernale che si chiama telecomando. Per darvi dei numeri e per farvi capire quanto danneggia il telecomando, sto usando ovviamente dell'ironia, un programma. Il mio programma ha una media di un milione e 4, un milione e 5, un milione e mezzo di telespettatori, un milione e 6, ma noi facciamo 8-10 milioni di contatti a puntata. Cosa sono i contatti? Vuol dire che ci sono una media di un milione e mezzo di telespettatori, ma ci sono 8-10 persone che entrano per almeno un minuto, che poi guardano, che l'ingaggio non lo ritengono prevalente rispetto alla loro scelta, perché è una storia che già conoscono, perché sono disinteressati, perché stanno scanalando tranquillamente. E sono 8-10 milioni, una cifra enorme rispetto al milione e mezzo, che è pure una cifra importante, fa di quarto grado un programma popolare. Quindi non siamo ovviamente al programma su Rai Arte, sul futurismo, ma siamo in un programma popolare. E i programmi popolari, la regola numero uno è che devi parlare in maniera chiara, in maniera semplice. Una volta ho usato il termine pietre angolari, voi non sapete cosa si è scatenato su Facebook e sui social, che non sapevano alcuni cosa fossero queste pietre angolari, un po' pietre portanti, perché bisogna avere un linguaggio semplice. L'altra regola è che in televisione, la televisione oggi ha diversi poli, no? C'è la Rai, che è il servizio pubblico, Mediaset che è una tv commerciale, la Sette che è una tv commerciale, e poi andiamo sul digitale terrestre dove Discovery è un gruppo di canali che sta crescendo in maniera più importante, però sono canali tematici. Sapete cosa sono i canali tematici? No. I canali tematici sono dei canali che a differenza di canali 5, dove puoi trovare il telegiornale, la musica, l'approfondimento giornalistico, il film, la serie, la fiction, sono su un unico argomento. Crime, natura, cartoni animati. Dico che la Mediaset dove io lavoro è una tv commerciale. Guardate che non è banale questo. noi non facciamo servizio pubblico, noi siamo un'azienda. E la regola principale in un'azienda è che conta l'ascolto. Se un programma va male, chiude. Chiude. Perché un programma deve garantire degli ascolti. Perché deve garantire degli ascolti? Chi me lo dice? Alzando la mano lo dici. Tranquillo. Perché dobbiamo garantire gli ascolti? Per la pubblicità. Perché un programma ha dei... la struttura del programma inizia per esempio alle 21 e 15, il mio, e poi ha quelli che si chiamano dei blocchi. Ok? Ogni blocco è quel momento di informazione tra un momento, tra la pubblicità e l'altra. Ci vediamo tra un minuto e mi raccomando. Pubblicità. Poi io riprendo. Giusto? Allora, quella pubblicità lì, quei 4, 5, 3 minuti, consente a Mediaset di vivere. Molto semplicemente. Perché la televisione costa. Pensate che i programmi di intrattenimento, quelli dove ci sono i balletti, io evito di ballare, sennò scivoliamo nel patetico, però quei programmi lì possono costare anche 8-900 mila euro a puntata. Ok? Anche un milione di euro una puntata. Vedete come il costo minuto della televisione è sempre importante. L'informazione costa il 90% in meno. Diciamo. Diciamo che un programma di informazione tra Rai, la 7 e Mediaset costa tra le 80 e le 300, 350 mila euro. Vi dico delle cose che tanto solo il mio amico Freccero magari ha l'inconsuetudine di dirle. E quindi la tv commerciale si basa sull'ascolto. È chiaro che poi all'interno dei programmi di informazione che fanno informazione, il perimetro viene dettato dalle norme deontologiche delle persone che vi lavorano. Io sono giornalista professionista, è scritto all'ordine dei giornalisti e quindi devo seguire le norme del mio ordine professionale. L'altro giorno, poi ve lo racconterò, ho ricevuto un esposto che una persona, se sentita offesa dal mio lavoro, è fatto un esposto all'ordine dei giornalisti. E io adesso devo fare una memoria e spiegare che io, a mio avviso, poi vi racconterò i dettagli perché può essere un esempio fresco di un fatto di come si possono o meno ledere i diritti degli altri. Perché parlare degli altri non è sempre scontato. soprattutto come e quando si affrontano fatti di cronaca che sono l'ossatura di quarto grado. Allora, il quarto grado fa parte di Mediaset, fa parte di una struttura di informazione che si chiama video news. Ok? Cioè Mediaset divisa in varie, chiamiamole divisioni, cioè la divisione dell'intrattenimento, le iene. Chi guarda le iene? Lo guardate, no? Ecco, tutti alzano le mani. Le iene, uno si sente più rilassato di là, voi meno perché avete il rapporto frontale, quindi un attimo, poi ci sciogliamo. Allora, le iene fa parte dell'intrattenimento. Quarto grado fa parte dell'informazione. L'informazione ha una direzione che si chiama video news, che è una divisione dove c'è dentro quarto grado, da quale dipendono tutti, quarto grado, quinta colonna della vostra parte, pomeriggio 5, mattino 5, terzo indizio che parte tra poco. La specifica di quarto grado è quella di fare informazione sui casi di cronaca. E all'interno del mondo Mediaset è il programma che fa più ascolti in prima serata. Ok? Perché anche qui una notizia importante è sapere che di tutta la televisione, proprio per quel discorso della pubblicità che parlavamo prima, la fascia oraria più importante è quello che si chiama prima serata, prime time. Ok? Il prime time in termini di raccolta pubblicitaria fa 60, non lo so, 70, non lo so, per cento di tutta la giornata. Se tu vendi bene gli spazi pubblicitari del prime time, garantisci la vita alla tua rete. Se la gente non mette a pubblicità, cambi i programmi. Se continui a fare programmi che non funzionano, chiudi, vai in default. Ok? E' ovvio che se tu hai, noi facciamo qualche punto più della media del prime time di rete, che è il 4 e mezzo, noi facciamo il 7, abbiamo fatto il 7 e mezzo venerdì, è chiaro che quei numeri in più che tu ottieni di ascolto rispetto alla media di rete, è chiaro che si distribuiscono sugli altri giorni e alzano la media settimanale, questa semplice matematica, della rete. E quando le persone, i nostri venditori di pubblicità di Publitalia vanno a proporre uno spazio pubblicitario, ovviamente uno guarda la media degli ascolti. Guarda non solo, guarda anche il target del pubblico. Perché se io devo vendere un prodotto, se io devo vendere delle macchine, delle Rolls Royce, è inutile che vado a fare la pubblicità dove non c'è nessun potenziale acquirente che guarda quel programma, no? Perché sprecherei. Se per iscrivervi qua voi avete avuto delle informazioni sulla scuola Holden, magari l'avete avuto da persone che la frequentavano già, magari avete letto qualcosa da qualche parte. Sicuramente il piano marketing di questa scuola sarà quello di informare tutte persone che hanno delle attitudini o degli interessi che sono complementari per sviluppare la propria carriera scolastica venendo qui. E arriviamo a quarto grado. Quindi quarto grado è un programma di informazione sui casi di cronaca. Ma tutti i casi di cronaca? No, non tutti. E questo è il primo scoglio. Ci sono delle persone che ogni tanto mi dicono, ma come c'è quella storia lì e voi non la trattate? Ma quella è cronaca. Ma è una cronaca che non rientra nel nostro format. Ogni programma ha un format che è un po' come la vostra carta d'identità. Ok? Voi avete delle caratteristiche segnate nella vostra carta d'identità. L'altezza, il peso, il nome, cognome dove si sedete. Il peso non c'è, per fortuna di molti. La professione. E il format sono le regole, scritte o meno, di un programma televisivo. Il nostro format cosa prevede? Il format di quarto grado. Che quarto grado tratta argomenti di cronaca, innanzitutto. In uno studio televisivo. Si apre, io sono nello studio televisivo. In questo studio televisivo nulla è casuale. In televisione nulla è casuale. Perché tutto ciò che voi vedete è un dialogo con voi. Quando voi accendete la televisione, nulla è casuale. La scelta degli ospiti, la scelta dei colori dello studio, la scelta delle luci, la scelta degli audio. Perché a seconda dei vostri sensi, tolto il tatto, l'olfatto e le papille gustative, tutto il resto, la televisione vi nutre, vi dà delle emozioni, no? E quindi tutto è comunicazione. Quindi tutto viene scelto in un dialogo immaginario, immaginifico, come preferite, tra chi fa televisione e chi la guarda. E se voi un domani volete fare televisione, capire la pancia del paese, capire la pancia dei telespettatori, che non è la vostra pancia. Quello che piace a voi non è importante. Non è importante quello che a voi piace. Per questo è un lavoro. Certo, poi uno ha i propri gusti. Io come conduco quel programma è diverso dal mio predecessore salvo sottile ed è diverso da chi verrà dopo di me. Perché ognuno ha la propria identità. Quando io faccio i miei libri ho il mio stile di scrittura, che è diverso da quello di ciascuno, per fortuna di ciascuno. Però uno deve interpretare la pancia e il cuore e la mente di chi ci guarda. E quindi il format è costruito per essere capace di raccogliere il maggior numero di telespettatori. Sempre perché si fa un esercizio che non è meramente intellettivo-culturale, ma è anche commerciale. Perché quello è un'azienda quotata. Io cerco di essere schietto perché se siamo qui a raccontarci le balle, allora possiamo metterci al bar. Ma se siamo qui a raccontare come funziona il sistema, bisogna raccontare come funziona il sistema. Perché molti giornalisti si mettono alle casacche dei rivoluzionari, di quelli che fanno le inchieste. Va bene. Però ci sono delle regole. Se tu fai un'inchiesta, adesso vi dico subito una cosa tremenda. A me è colpito molto. Quando io ero alla 7 ho fatto un'inchiesta sulla droga a Perugia. Perugia è una piccola città che magari qualcuno di voi conosce, è un polo universitario, magari alcuni di voi hanno degli amici che vanno a Perugia, ed è la capitale europea dei morti per eroina. Muoiono ragazzi, uno dietro l'altro. Spacciare eroina a Perugia è un business che alimenta non solo gli spacciatori, ma tutta una rete di zona grigia di persone che se ne approfittano e prendono quei soldi. Prendono i soldi dagli affitti in area delle case che danno gli spacciatori. Questi spacciatori guadagnano molti soldi e rimettono questo denaro nella piccola città, nell'economia sana anche di quella città. E quindi molta gente chiude un occhio e ne chiude un altro. Ebbene, io ho preso due dei miei, all'epoca, migliori ragazzi che avevano la mia squadra, e li ho mandati a Perugia e questi sono stati un mese con le telecamere nascoste e hanno filmato tutto. Tutto. Hanno filmato anche uno che è morto lì in un bar. Erano lì quelli morti di overdose. E abbiamo fatto un racconto di come un sistema criminale fosse ormai comprenetrato con il sistema sociale, economico di una piccola realtà. Ebbene, telecamera nascosta. Abbiamo usato tutti gli strumenti, poi li vedremo, di come un giornalista televisivo, un cronista televisivo può documentare quello che vede e sente. Il giorno dopo, io ero così contento, guardo i dati di ascolto, convinto di aver fatto il botto. Non si era mai visto un'inchiesta fatta così bene. L'avevano fatto, Pietro, eh sì Pietro, i ragazzi che avevano fatto anche, e ve lo consiglio da vedere se qualcuno di voi vuole fare il giornalista di inchiesta, Scacco a Re e Biancaneve. Biancaneve, non quella della Walt Disney ovviamente. Sono dei ragazzi, dei reporter, che a Correa hanno fatto questo documentario, lo trovate su YouTube, della cattura di Provenzano. Poi vi faccio vedere i primi tre minuti e vi rendete conto il ritmo di quel racconto. Perché ogni programma televisivo è format, ma è soprattutto racconto. Cioè io busso nel tuo cavolo di soggiorno perché ti voglio raccontare una storia. Se questa storia ti interessa rimane, se no tu spegni e cambi canale. E invece i dati furono un bagno di sangue. Cioè quel giorno abbiamo fatto, quella puntata lì, il record negativo di ascolti. Chi mi sa dire perché? Era tutto fatto benissimo. C'era anche, come dire, qualcosa che qualcuno può chiamare morboso, no? C'era la morte in diretta quasi, che ovviamente abbiamo tagliato. Perché ha fatto così pochi ascolti? Perché? Proviamo, ragazzi. Oh, mica siamo ad un esame, eh? Penso perché comunque certe persone magari si drogavano, si sono sentite toccate da ciò e quindi ha dato fastidio, penso. Cioè tu dici in Italia sono tutti drogati, quindi... No, non ho detto quello. O se no comunque ha dato fastidio o ha impressionato certe persone. Ha impressionato. Questo può essere... Chi è? La gente si disinteressa... come ti chiami? Laura dice che la gente si disinteressa a questa realtà. Perché non rispettava il format. No, quello, chiedo scusa, non era quarto grado. Era un programma di inchiesta che si chiamava gli intoccabili anni fa. Perché non rispettava il format. No, nel senso... comunque era un programma di inchiesta. L'ultimo? Nome prima, eh? Carlo. Un eccesso di realtà. Ok. Allora, questi sono... Quelle che avete detto sono dei motivi non primari. Sono motivi che hanno contribuito a bassi ascolti. Ma non è il motivo fondamentale. Il motivo fondamentale, un po' l'ha detto questa nostra amica, il motivo fondamentale è che non c'è stata immedesimazione. Quando tu guardi la televisione e vedi un'inchiesta, una delle prime regole, parlo di fatti di cronaca, eh? È l'immedesimazione. Cioè il telespettatore deve capire se la storia che tu gli stai raccontando, può essere una storia che potenzialmente lo può coinvolgere, lo coinvolge o lo coinvolgerà. O lui, o i suoi parenti, o i suoi primi amici. E la droga? Se tu ce l'hai in casa, non come pusher intendo, eh? Se tu ce l'hai in casa, come problema, eh? A parte che è una minoranza, per fortuna, nel nostro paese. E poi magari non la vuoi vedere in televisione. Ma soprattutto non c'è immedesimazione. La nostra signora Pina, che è la pancia, chiamiamola la pancia del paese, chiamiamola la signora Pina, eh? Signora Pina, del drogato, gli interessa veramente poco. Ma non vuol dire che è una brutta persona, eh? Non vuol dire che è una brutta persona la signora Pina. Che ha già i suoi problemi. Ho già i miei problemi. Cosa? Sì, vabbè, quelle storie lì. Quelle storie lì. E infatti abbiamo fatto pochissimo ascolto. E così dall'altra parte, a quarto grado, i casi di cronaca, quali sono quelli che funzionano? Funzionano in termini di ascolto, eh? Che interessano. Sono i casi dove c'è immedesimazione. Siamo a Torino. Qui abita, vive, lavora un signore che si chiama Danilo, che sta, adesso io non conosco questa città, però immagino non è lontano. Zona tribunale, non so se è lontana da qui. È lontana? Non molto. Lui ha la sua tavola fredda. Questo signore, che è una persona splendida, Danilo, un giorno l'ha chiamato la moglie e dice l'amore, guarda che non si trova più mia sorella. Come la cognata era sparita? Dove è finita? La cognata si chiama Elena Ceste, che lavorava e viveva nell'Astigiano con un marito pompiere, Michele Buoniconti. Un giorno Michele Buoniconti porta i tre, quattro figli a scuola, rientra da scuola e non trova più la moglie. È sparita. È scappata di casa. Probabilmente nuda, dice lui. Poi, adesso non vi racconto tutta la storia perché non è importante, però diciamo che poi si è conclusa che hanno ritrovato il corpo della povera Elena in un canalone poco distante da casa. Hanno processato Michele Buoniconti e l'hanno condannato. Questa storia è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Perché? Perché Elena Ceste rappresenta la mamma che faceva le brioscine e le merendine per i figli, rappresenta la... che portava la famiglia tutte le domeniche i figli a messa, rappresenta la bella provincia italiana. E quindi c'è un'emmesimazione, c'è un'emmesimazione. Vai. Scusi se banalizzo, sono un po' diretto, ma quindi c'è bisogno di essere dei amicisiani per farsi ascoltare e nessuno ha pietà dei drogati o, che so, di gente del genere? No, vuol dire che io ti sto parlando di regole di ingaggio. Ci sono degli argomenti che hanno più interesse, ci sono argomenti che hanno meno interesse. Per esempio, quello sulla tossicodipendenza, seppur raccontato bene, non fu un grande... non suscitò un grande interesse. Perché magari c'è poca sensibilità sociale, ma questi sono altri argomenti, capito? all'interno di un format di quarto grado sicuramente le persone, i nostri telespettatori seguono con interesse quelle storie dove c'è un'emmesimazione e dove c'è, e qui è l'altra chiave di ingaggio, la prima è l'emmesimazione, la seconda sicuramente è il dubbio. Noi difficilmente trattiamo delle storie criminali dove sono già dove c'è già una certezza su chi è stato o chi non è stato. Perché il dubbio alimenta il confronto e il dubbio è una chiave per migliorarci. nessuno va avanti con delle certezze e delle verità in tasca, no? Nessuno di voi tantomeno io. Il dubbio è una chiave di ingresso nelle nostre storie. Scusa, non l'ho sentito, scusami. Certo, aspetta che adesso questo è interessante che l'è. Bravo. se dite sempre il vostro nome prima. Damiano. Il dubbio aumenta l'interesse e suscita più curiosità e di conseguenza fa più ascolti. Sì, è chiaro, no? È una caratteristica imprescindibile di una questione di un programma televisivo. Certo, assolutamente. È ovvio. Il dubbio è una chiave di lettura. Anche perché vi faccio un esempio. Adesso c'è stata la sentenza... Ma poi, scusi un attimo. Prego. Cioè, la tossicodipendenza, come tante altre cose, è una questione per la quale risulta complesso e complesso in medesimarci. quindi non è comodo in medesimarci in quella cosa. Quindi la gente vuole qualcosa per cui non ha difficoltà a immedesimarsi. Cioè, se io faccio vedere alla gente un giallo, per esempio, è morto il tizio... Però, scusami se ti interrompo, perdonami. È vero però in parte. Sai perché? Perché abbiamo parlato prima di Elena Ceste. L'immedesimazione è come dire se una cosa tocca qualcuno che ha come dire un'identità simile alla mia. Una storia simile alla mia. Poi medesimarsi fino a un certo punto perché medesimarsi in questi dolori. Qui stiamo parlando di persone i sopravvissuti, i familiari di queste storie sono degli ergastolani. Perché una parte di loro si è spenta. e sono degli ergastolani innocenti perché non hanno compiuto nulla che determinasse la violenza che patiscono o che i loro parenti hanno patito. Scusi. Prego. Non le risulta a lei che l'immedesimazione sia un po' una predisposizione umana su cui la televisione comunque gioca la propria funzione? È chiaro? Attenzione. 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 Gioca vuol dire come se se ne approfittasse. No, no, te lo dico. La televisione è esattamente come un supermarket. Tu entri col tuo carrello e scegli cosa prendere e cosa non prendere. Puoi accendere e poi spegnere. hai la libertà nessuno ti costringe. Infatti l'abbiamo visto prima degli 8-10 milioni che entrano. Però una bolletta si paga pure il canone Rai cioè voglio dire quindi Mediaset no e queste sono cose importanti. Sì, assolutamente c'è da fare le dovute differenze. Ma guarda scusa non è solo una questione come dirti culturale o di pignoleria è proprio un approccio al lavoro. È chiaro? È un approccio al lavoro. Uno sa dove lavora. Comunque stai dicendo? No, dico dato che l'immedesimazione è una predisposizione umana ovviamente la televisione mette in mostra ciò per cui è più comodo immedesimarsi oppure è più diciamo di curiosità stimola più la fantasia però immedesimarsi in un tossico dipendente che è una è una situazione reale che c'è in Italia come da tutte le altre parti è scomodo Ma più che è scomodo sai cos'è? È lontano da proprio vivere cioè uno può dire come mai in una famiglia normale può succedere un cortocircuito un tilt e accadono queste tragedie perché quando noi indaghiamo come quarto grado in queste storie non è che troviamo delle famiglie sempre dove c'era un campanellino d'allarme che suonava e dove la tragedia era annunciata a volte queste cose queste storie accadono in famiglie arrivo in famiglie tipo fintamente del mulino bianco no? la pubblicità del mulino bianco dove alle sette di mattina sono tutti sorridenti c'è una tavola apparecchiata che io per apparecchiarla impiegherei due ore e mezza dove alzarmi alle quattro per preparare i miei figli una tavola così dove sono tutti sorridenti il marito già vestito pettinato cioè ai quattro si alzano questi no? ecco allora quella famiglia è una famiglia modello alla quale noi aspiriamo inconsciamente alcuni di noi no? poi la verità è un'altra però non sempre i campanellini suonano per quello uno ha un interesse di capire come mai certe cose accadono prego scusa che ti eri stancata con il braccio ti faccio correre oggi eh un po' grazie bisognerebbe dare anche un po' più di profondità alle storie che si raccontano credo perché quando si dà una complessità al personaggio che si vuole raccontare un campanello per ognuno di noi credo che adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo grazie allora c'è uno studio c'è uno studio abbiamo detto che è il teatro il palco del racconto ok? in questo studio accadono fondamentalmente tre cose c'è un conduttore che in questo caso è sottoscritto che dialoga con degli opinionisti degli esperti noi abbiamo degli esperti non so se avete mai visto il programma che sono seduti su delle poltrone ai miei lati c'è uno di spalle c'è un ex generale di Carabinieri generale Garofono che è un esperto di scienza di biologia di scena del crimine poi c'è uno psichiatra Meluzzi c'è un criminologo Picozzi c'è un giornalista che segue i fatti di cronaca che è Carmelo Bate e poi di volta in volta abbiamo delle persone che seguono per una questione professionale o personale le storie la storia che raccontiamo quindi possono essere degli avvocati dei familiari però anche qui c'è una regola che fa la differenza rispetto ad altri programmi che queste persone sono lì ma non dialogano non fanno talk tra di loro se non raramente perché è una regola di quarto grado perché non si fa dibattito su questi argomenti dato che sono molto delicati cioè questo studio questo studio ha delle scelte cioè è frutto di scelte dai colori non c'è il bianco non c'è l'azzurro non ci sono colori cosiddetti freddi le luci sono basse perché portano alla riflessione al coinvolgimento non c'è il bianco fammi finire poi c'è uno studio bis che è a fianco al mio dove l'altra conduttrice Alessandra Viero fa gli approfondimenti della scienza allora ci serve sapere su questo fatto di cronaca se un testimone poteva sentire le urla di un litigio prima di un assassino e stando nella nella stanza attigua a questa sala e allora si prende un esperto di audiometria e lei fa degli esperimenti oppure di balistica si prendono degli esperti e sta nel nello studio nello studio a fianco il racconto si sviluppa in studio dove queste persone dialogano cioè intervengono si sviluppa con dei filmati dei servizi di approfondimento si sviluppa con dei collegamenti gli AV cioè ci sono degli inviati che sono in collegamento e che io ogni tanto chiamo e apro un collegamento in luoghi che sono dei simboli sono dei simboli può essere davanti a un carcere davanti a una caserma davanti a una casa dove è accaduto qualcosa su una strada in un parcheggio dove è stato uccisa Teresa e Trifone a Pordenone fuori da quella palestra due ragazzi che erano un po' più grandini di voi lui è uscito dalla palestra è passata una persona erano in macchina lui aveva l'infradito che stava andando a casa la fidanzata era andata a prenderlo è passato un ragazzo che oggi ha processo che si chiama Giosuè Ruotolo per duplice omicidio un'esecuzione e noi facciamo i collegamenti dal parcheggio perché nell'immaginario i simboli i luoghi i simboli hanno la loro importanza e questo è lo sviluppo del racconto però il racconto bisogna costruirlo e allora c'è l'agenda di quella che è l'attività della squadra di quarto grado per andare a identificare individuare un racconto che possa svilupparsi nella puntata del venerdì questo lavoro inizia in genere il lunedì dove c'è un comitato ristretto chiamiamolo così della redazione che sceglie quali storie affrontare il sabato la domenica e il lunedì i giornalisti gli inviati i redattori chiamano la caporedattrice o la curatrice e danno gli sviluppi possibili o già in casa su una storia o segnano storie nuove casi nuove e il lunedì pomeriggio gli autori del programma che sono io Siria Magri che è la curatrice Sebastiana Cutugno che è un'altra autrice ci incontriamo l'Alessandra Viero ci incontriamo facciamo una riunione dalle tre di pomeriggio fino alle sette di sera e i troviamo mettiamo in scaletta quelle che sono le storie sulle quali vogliamo approfondire andare avanti e meritevoli di andare in onda allora quali sono i criteri perché poi sono criteri narrativi la televisione ripeto è solo narrazione allora i criteri sono c'è per esempio ci può essere una storia interessante una storia clamorosa che però manca di alcuni requisiti e quindi non può andare in onda innanzitutto una storia per essere interessante a livello televisivo sto parlando ha bisogno di immagini e di suoni un conto è una storia che tu leggi in un libro un conto è una storia che tu guardi in televisione sono linguaggi completamente diversi quello che ti emoziona in un libro a volte tu non lo puoi rappresentare perché chi lo rappresenta vi faccio un esempio il Vaticano lo IOR l'istituto opere di religione la banca dove ci sono i segreti della chiesa perfetto che immagini mi fai vedere tu perché nello IOR tu non puoi entrare con la telecamera chi lavora all'OIOR non si fa intervistare i cardinali neanche meno e tu che immagini mi fai vedere dello IOR immagini dall'esterno piazza San Pietro la gente cambia canale sono immagini fredde allora non ha immagini magari è una storia di riciclaggio ma non ha immagini la televisione ha bisogno di immagini e di suoni adesso vi faccio un esempio c'era una signora di 22 anni una ragazza possiamo dire di 22 anni che era mamma che si chiamava Lisa Puzzoli aveva un cognome buffo aveva fatto un bambino si era sposata e poi ha scoperto di essersi sposata con un uomo sbagliato Lisa Puzzoli eccola qua quello era l'uomo sbagliato Vincenzo Manduca che faceva il macellaio un giorno cos'è successo è successo che si sono lasciati lui dava a lei un assegno di mantenimento e lei subiva le angherie dell'ex marito angherie di violenza psicologica di violenza fisica e l'aveva denunciato più volte per stalking e per questo tipo di reati però non si muoveva una foglia nessuno faceva nulla l'avvocatessa della Lisa della lo si dice a Milano di Lisa ha detto fai una cosa Lisa tu per sicurezza vai in giro con un registratore così ogni volta che incontri il tuo ex marito registri l'incontro così se lui ti minaccia noi abbiamo la registrazione è così Lisa 22 anni ha fatto un giorno il marito l'ex marito si presenta sotto casa citofona cosa c'è? sono quelle case che hanno hanno solo un piano hanno un cortile fuori nei paesi no? allora lei ti devo parlare allora lei è uscita il fratello ha detto ma non andarci parla di uscire al citofono no no ci voglio andare allora parlava con il cancello d'ingresso che separava le due persone col suo registratore lei si sentiva protetta dal registratore poi con una scusa ha aperto il cancello il marito l'ex marito ha tirato fuori un coltello che aveva comprato mezz'ora prima e l'ha ammazzata e il registratore è andato e lei è morta è uscito il fratello ha visto la scena questo assassino ha fatto un chilometro ha spento la macchina davanti a un centro commerciale ha chiamato i carabinieri non riuscì neanche a dire dove fosse e si è fatto arrestare c'è stato il processo questa è una storia importante perché è una storia di come a volte non basta denunciare no? contro i femminicidi tanto detti e chiacchierati non basta le denunce perché a volte uno denuncia e le denunce rimangono lì sulla schiena di qualcuno che è distratto o deuberato di lavoro o chissà cos'altro allora qui si pongono delle domande si manda si manda in onda questo audio o no per raccontare questa storia questo audio è un audio fortissimo potete immaginare perché è un audio di una morte indiretta impressionante anche questo audio permette con forza di mandare in video una storia che altrimenti assomiglierebbe purtroppo lo dico a tante altre purtroppo cazzo ve lo dico poi purtroppo cosa si fa? questo audio ha processo c'è processo contro questo signore il audio è depositato un avvocato te lo dà non fa un reato te lo dà è depositato è pubblico tu lo mandi in onda insomma che rilevanza ha i guaiti di una donna che sta morendo nell'esercizio di un diritto di cronaca è importante per raccontare la storia allora vedete qui ci sono due aspetti per questo avrò raccontato questo episodio questa vicenda perché c'è un aspetto di come è potente l'audio tu hai un audio quindi puoi raccontare una storia che magari altrimenti si perderebbe a Santa Sofia di Forlì con tutto il rispetto però dall'altra parte uno si pone un problema allora noi come abbiamo fatto nell'unico modo possibile abbiamo sentito i parenti di Lisa perché ci sono anche i parenti quando tu racconti una storia al di là del diritto di cronaca no? e ho avuto permettetemi faccio una divagazione però importante perché qui c'è anche molta umanità quando fai questo mestiere tu entri in certe storie e impari sempre io sono il primo a imparare ve lo dico sinceramente io ho avuto una lezione di vita dalla mamma di Lisa la mamma di Lisa sapete cosa ci ha detto? ci ha detto mandate in onda l'audio però vi chiedo solo di mandarlo in onda dopo la sentenza perché non vorrei mai che qualcuno dicesse che io vi ho concesso è autorizzato a mandare in onda questo audio per influenzare i giudici che devono pronunciarsi su chi ha ucciso mia figlia cioè pensate la sensibilità e l'onestà intellettuale di questa signora quindi noi abbiamo arrivo abbiamo mandato in onda l'audio ma abbiamo mandato in onda l'audio tagliato cioè abbiamo mandato in onda l'audio di quando loro discutono sull'assegno di mantenimento non abbiamo fatto sentire ovviamente quello che c'è stato dopo no? perché vi assicuro che non era il caso però 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 questa è stata una testimonianza forte pulita e giorno dopo sarà un caso noi abbiamo ricevuto in redazione diverse telefonate di signore mamme donne che subiscono violenza e che non denunciano perché vedi in questo paese è un grosso problema questo è un grosso problema e molte persone sanno magari gli altri che subiscono e tacciano ed è per questo che senza nessuna verità ben consapevoli che la nostra è una tv commerciale noi facciamo anche delle campagne di sensibilizzazione tutte le settimane e delle campagne che durano tutto l'anno e l'hashtag io rispetto è quella di quest'anno l'anno scorso c'erano i palloncini bianchi due anni fa c'erano le scarpe rosse perché il nostro è un programma di questo tipo di approfondimento due domande prego no non hai alzato la mano tu ha una spettacolarizzazione del macro in realtà infatti l'abbiamo tagliata cioè il caso di Sarascazia l'hanno portato avanti per mesi e mesi a me che me ne viene di ascoltare la mente di una povera christa che viene uccisa a me cosa mi viene a me di ascoltare la mente di una ragazza che viene uccisa i lamenti nessuno infatti non li abbiamo mandati in onda è appunto però perché perché li avete mandati in onda no non li abbiamo mandati in onda no abbiamo tagliato quella parte vabbè in generale anche non i lamenti a che mi serve ascoltare il caso di Sarascazia portato avanti per mesi e mesi sulla posizione in cui è stato ucciso e tutte quelle cose là cioè perché una cosa è il fatto di cronaca la cosa è ok lei voleva proseguire sulla tua linea no io volevo parlare del problema del femminicidio che in questi giorni se ne parla tantissimo e vengono raccontate un sacco di storie e tutti i dettagli ma non sarebbe più utile prevenire invece che raccontare queste storie che per carità cioè stringono il cuore eccetera però diventa uno spettacolo e non una risoluzione del problema ma invece se si diffondessero numeri di aiuto si cercasse di insegnare alle giovani ragazze che se un ragazzo ti tratta male non è un povero ragazzo che deve essere capito in realtà ti ama ma che non devi ma questo chi lo dice scusa il povero ragazzo che deve essere capito c'è nella società non nel suo programma in generale l'idea che se un ragazzo non tratta male nel senso tipica però in generale un po' giustificazionista esatto comunque la televisione ha una responsabilità perché arriva nelle case di milioni di persone del paese quindi non sarebbe meglio prevenire con un aiuto prima che la persona muoia non so come dire vedi come ti chiami scusami Marta Marta tu hai perfettamente ragione poi ci sono come dirti dei programmi che magari danno più spazio a certi argomenti e poi dipende come questi argomenti vengono trattati se io faccio un esempio ospito in studio Valentina Pizzalis che è una ragazza come è capitato spesso che è una ragazza che è sopravvissuta all'uomo che le voleva dare fuoco e l'ha incendiata l'ha bruciata viva e lei è sopravvissuta ed è menomata fisicamente e lei non solo fisicamente ma con la sua voce soprattutto col suo cuore è la sua forza in televisione ti dice quali sono quei campanelli dell'arme e ti dice che nessun giusto e che ti dice che lei giustificava e che ha sbagliato giustificare e ti fa degli esempi e tu magari in questi esempi ti ritrovi perché è capitato anche a te Michele Boniconti quel quel vigile del fuoco che ha ammazzato Elena Ceste la moglie che vi raccontavo prima quando è andato in carcere sapete cosa è successo che ha ricevuto delle pacche sulle spalle da alcuni agenti di polizia penitenziaria e ha detto ma sì lei si era andata a cercare una donna non va a cercarsela perché aveva avuto una relazione extraconiugale Elena Ceste perché era uscita da un incubo che era quello che viveva col marito evidentemente ma io non voglio giustificare nessuno in questo caso Elena dico solo che un piano è il dialogo un conto è l'omicidio che sono due cose un po' differenti e poi dove era chi è che aveva detto di Sara Scazzi non mi ricordo ah sì scusa te allora Sara Scazzi Sara Scazzi è stata una storia un omicidio tremendo ed è un omicidio di cronaca è una storia di cronaca dove c'è una una unicità che non ha precedenti cioè qui abbiamo di fronte un uomo che dice di averlo ucciso che è libero due donne che dicono di essere innocenti che sono in carcere e hanno preso l'ergastolo è una storia poi tu dici il corpo come è messo il corpo come non è messo il corpo a parte che era eh? non ho capito scusami grazie è su come è stata trattata la storia non sul fatto che è stata raccontata io parlo per come l'abbiamo trattata noi noi abbiamo dato spazio in questo caso a loro cosa sostengono cioè le persone che sono state condannate prima che venissero condannate perché loro dicono che sono innocenti hanno preso l'ergastolo cioè ti cambia la vita prima e dopo le prove che ci sono ci sono abbastanza prove per condannarle? sono prove rilevanti queste? non lo so qualche dubbio i miei esperti per esempio ce l'hanno cioè a volte guarda ti giro la frittata da un'altra parte una volta il mio Simone Toscano un nostro inviato ci sottopone una storia e ci dice sapete è stata trovata una ragazza in Sicilia impiccata fuori da una casa da una cascina dopo una festa i carabinieri hanno fatto le indagini e hanno archiviato perché è un suicidio secondo me non è così perché ci sono alcuni elementi che non tornano ho detto Simone ma sei sicuro? e mi li ha fatti vedere questi elementi abbiamo trattato questa storia oggi su Valentina Salamone che aveva 20 anni c'è un processo in corso per omicidio c'è un signore che ha la sbarra con l'accusa di aver ucciso Valentina Salamone i carabinieri avevano archiviato la storia come un suicidio io ti assicuro e vi assicuro che i genitori di Valentina Salamone che se hanno la quinta elementare insieme è un miracolo e lo dico non in maniera snob lo dico per farvi solo immaginare cosa vuol dire per questa coppia andare in uno studio televisivo parlare con dei giornalisti andare in un tribunale c'è gente che non è abituata a questo mondo a queste cose loro facevano la loro vita normale però hanno accettato di affrontare tutte queste cose perché la verità non è una merce di scambio la verità è una non si non si non si commercia la verità io non voglio dire grazie a quarto grado a Simone Toscano che è andato a fare gli approfondimenti che è andato dai carabinieri dai magistrati a portare questi elementi che hanno stati raccolti non lo voglio dire sta di fatto che c'era una verità e che poi c'era un'altra viviamo in un paese che non è un paese proprio così normale no? giusto? perché se io non lo ritengo proprio normalissimo una volta mi ha chiamato un inviato che stava seguendo il caso di una professoressa sparita in Sardegna e sapete cosa mi ha detto? che non la trovavano più questa è uscita a fare footing e è sparita sapete cosa mi ha detto? ah sai Gianluigi alcuni inquirenti hanno saputo che stavo venendo con le truppe no? in Sardegna perché dovevo fare delle riprese e hanno ripreso le ricerche per farsi filmare io ho detto ma stai scherzando? no no è così hanno saputo che stavo venendo andando in Sardegna e quindi hanno ripreso perché così fanno vedere che le ricerche sono ancora in corso prego sei qua se no mi facciamo fare 20 km non voglio parlare della moralità perché comunque è già stata toccata da loro la moralità dell'andare nel luogo del delitto nell'andare del parcheggio nel trasmettere anche se tagliata una parte perché comunque fa udiense e si sa come diceva prima lei per non raccontarci balle la televisione soprattutto se è privata funziona così e va bene però quando si racconta una storia soprattutto se è reale e soprattutto se lo si fa da giornalisti questa è proprio la mia idea non vuole essere un'affermazione vuole avere come risposta un suo punto di vista che è un professionista vero e quindi voglio sapere nel mondo reale sul vero poi professionista poi professionista lo standard qualitativo del programma del servizio di cui l'hai parlato sulla tossicodipendenza ai drogati era riconosciuto da lei che è un professionista come più alto rispetto a magari ha detto lei non aveva mai visto una cosa fatta così bene e quindi aveva uno standard più alto rispetto a ciò a cui il pubblico invece è di solito abituato a cui è legato ecco non sarebbe compito di un professionista come lei e in futuro si spera perché qua vogliamo più o meno fare un tutti raccontare storie eccetera continuare una volta che si è raggiunti una certa soglia di base di pubblico fisso a proporre solo un determinato standard qualitativo in modo in modo che la gente non sia abituata come si dice non sia attirata non dia la sua fedeltà a un programma perché il suo target è stato colpito ma perché inizia a riconoscerne il livello qualitativo la qualità avete capito la domanda facciamone un bel applauso allora tu hai introdotto un argomento che diciamo come dire è molto psicologico il tuo argomento perché implica il fatto che il lavoro di giornalista abbia anche una funzione sociale per te è una cosa scontata non per tutti lo è non per tutti lo è cioè tu dici io tu fai un programma che raggiunge un certo livello e se tu raggiungi questo livello qualitativo intendo poi devi proseguire in modo tale da migliorarlo un po' così no? grosso modo sto cercando di stringerlo un pochino hai ragione hai ragione però ti posso dire una cosa e che spero che vi faccia a tutti piacere che questo bistrattato pubblico o questa bistrattata televisione quando io arriviamo solo qua se io indugio io come quarto grado intendo su qualche elemento che può essere considerato magari o un po' morboso o wireistico sai cosa succede? succede succede che gli ascolti scendono un po' quindi c'è già quella cosa della quale tu stai dicendo io vedi come sono vestito? io stasera oggi scusate mi sono ho detto stasera adesso capirete perché mi sono vestito come a volte vado in come mi vesto sempre nel programma se voi guardate il programma io ho sempre una camicia bianca di lino e un vestito scuro perché io non sono il protagonista capito? tu dici questo cosa c'entra? c'entra c'entra anche perché noi cronisti i cronisti sono dei vettori di notizie non sono loro i protagonisti poi sai è meglio parlare in maniera alta a pochi o parlare in maniera larga a un gran numero di persone aspetta aspetta e allora nel momento in cui tu parli in maniera larga a un gran numero di persone lì puoi fare delle scelte parlando in maniera larga a un gran numero di persone noi come quarto grado quando affrontiamo un argomento lo affrontiamo sempre portando delle persone che abbiano delle competenze professionali per raccontare e descrivere ciò che loro riguarda adesso arrivo e io vai Andrea ritornando anche facendo due passi indietro e anche riprendendo quella che era la domanda del ragazzo abbiamo parlato riguardante il servizio di cronaca di La Sette di persone fatti di cronaca nera quindi tossicodipendenza gente normale comune che a livello mediatico non ha una grande risonanza che quindi quando lei fa un programma di questo tipo non dà poi gli ascolti che ci si aspetterebbero no? Lei da questa cosa vi ha colpito eh? Sì questa cosa vi ha colpito lei da presentatore televisivo ha una soluzione cioè saprebbe in qualche modo come appunto in modo che si riesca a dare maggior risonanza a questi tipi di storie che magari da un punto di vista mediatico non hanno lo stesso impatto di ciò che appunto nasce col dubbio nasce dal fatto che non si sa chi abbia ucciso chi eh io ti faccio una domanda però attenzione eh tu hai una tua gradatoria di rilevanza no? di cose che sono più o meno importanti da mettere in onda eh a te ha colpito questa storia di droga quindi se c'è una storia di droga a te colpisce di più rispetto a un'altra storia che ha delle altre caratteristiche ma droga come può essere anche gente che muore non so di malattie venere o gente che muore di malattie venere insomma allora gente che muore di malattie venere attenzione per dire un'altra cosa del genere però dipende dal format sì cioè noi non ci occupiamo per esempio di eh parlo come quarto grado ecco non facciamo confusione non vorrei che avevi dato confusione cioè la storia della droga era all'interno di un programma che io facevo sugli che si chiamano gli intoccabili dove una volta ho fatto una puntata sulla trattativa tra Andrangheta e lo Stato italiano una volta ho fatto una puntata ah ve lo ricordate come si chiama quel parlamentare che dice fatti li cazzi tua ecco razzi purtroppo l'ha inventato il mio programma perché io avevo Gaetano Pecoraro che adesso sta alle Iene che lavorava con me è andato all'interno del Parlamento cioè no rettifico ha messo una telecamera nascosta arrivo a un parlamentare questo si è avvicinato a Razzi che in quel momento non conosceva nessuno l'ha un po' sollecitato e Razzi gli ha detto a questo parlamentare che aveva la telecamera dentro la camera dei deputati c'è una roba mai vista vabbè comunque gli ha detto ma che ti frega fatti le cazzi tua che campi cent'anni io mo' ho il vitalizio mi ha dato a casa cioè questo era il concetto quella cosa lì noi eravamo ecco per esempio lì noi eravamo convinti che mandando in onda questa cosa non avremmo mai più avuto in Parlamento con tutto rispetto l'onorevole Razzi perché si sarebbe sputtanato perché era un classico caso di un parlamentare che all'apparenza diceva fatti le cazzi tua campa cent'anni pensa solo al vitalizio cioè una roba che gli italiani odiano questo concetto della casta della politica che pensa si alimenta solo mangiando i nostri diritti no? invece sai cosa è successo? che Crozza ci ha fatto la parodia e che Razzi lo invitano alle fiere per andare a parlare perché hanno scoperto che Razzi è simpatico è così è diventato un personaggio popolare l'avevano eletto nel collegio italiani fuori dell'Italia no? avete capito cosa è successo? è successo il contrario di quello che noi immaginavamo cioè noi abbiamo denunciato che in Parlamento in una puntata sull'attenzione compravendita dei parlamentari perché di questo stiamo parlando sulla compravendita dei parlamentari sulle maggioranze che compravano parlamentari per non cadere quindi era un argomento serio o no? ecco lì abbiamo fatto lì abbiamo fatto ascolti perché fu una puntata che andò bene da una parte dall'altra parte Razzi grazie a tutti assolutamente però vede Don Matteo dove magari capito è un programma dove c'è tanto bonismo c'è un'indagine magari vengono trattati anche argomenti ma guarda che se la signora Pina guarda Don Matteo non è che vuol dire che non va bene la signora Pina o Gianluigi Nuzzi guardiamo Don Matteo io non lo guardo ma guardiamo Don Matteo perché abbiamo voglia di rilassarci esatto c'è qualcuno che ieri sera ha visto il grande fratello? alzi la mano ecco allora come ti chiami? come? Chiara Chiara ha alzato la mano tranquilla sai perché? perché non è che hai detto che se hai visto il grande fratello allora vuol dire aveva voglia di rilassarsi di farsi due risate di vedere come credo mi hanno detto la Valeria Marini che è andata a casa c'è anche un po' di leggerezza ogni tanto quello che intendo dire quello che intendo dire è c'è un modo si riesce a trovare un modo affinché la stessa signora Pina che vede Don Matteo e che in qualche modo anche in maniera inconscia si inizia a entrare in patia tu devi fare il giornalista tu devi documentare dei fatti perché se tu pensi alla funzione educativa della televisione attenzione entri in un mondo che è molto è molto difficile perché quello che può essere per te giusto per lei può essere sbagliato l'educazione cosa vuol dire? non ci sono cioè entriamo su un piano scivoloso è già difficile credimi fare cercare di fare correttamente giornalista allora vi faccio un esempio così alzo la palla alle giuste critiche che sono arrivate dal talunni di voi però fermiamoci un attimo perché se no non riusciamo ad andare avanti perché volete parlare tutti e io sono molto contento di questo allora vi raccontavo prima che ho ricevuto un esposto disciplinare giusto? cosa vuol dire? che una persona ha fatto un esposto all'ordine dei giornalisti contro di me questa persona si chiama Antonio Ciontoli questo signore è a processo insieme alla moglie perché ridi? a chi non ho risposto? se non vi sentite soddisfatti perché magari io cerco anche di andare un po' avanti perché se no facciamo la seduta terapica la tv deve aiutare a migliorare il paese che sinceramente cioè va bene è tutto però andiamo avanti perché questo va bene la funzione educativa culturale dov'è? no non deve culturare il paese ma deve di non peggiorarlo adesso la tv ha peggiorato o migliorato il paese eh? piano piano perché se no non lo sentite c'è un ordine di ontologi esatto e se però facciamo come dici tu rischiamo di avere tutta la televisione uguale che parla delle stesse cose nello stesso modo se usi l'elemento della statistica ma la televisione non è matematica amico mio sarebbe bello se fosse così ma l'informazione non è matematica non è scienza è emozione anche perché perché se no non entri in questo lavoro ma non devi non devi ascoltami allora tu devi guardare ok allora facciamo così allora allora noi dovremmo fare cosa guardare ciò che crea più danno no no spiegati no no io non ho detto questo non solo ciò che crea più danno ma bisognerebbe proporzionalmente statisticamente informare informare la gente in base a quello che succede quanto succede che impatto sociale ha ma statisticamente come scegli le notizie tu? se se un impatto sociale se la morte di una che inizio dicendo che tutto il rispetto per tutta e qualsiasi tipologia di storia e di trauma di tragedie di qualsiasi cosa quindi rispetto innanzitutto però però l'informazione anche se è presente in un'azienda come Mediaset che è un'azienda privata e commerciale no ma dimmi concretamente tu prendi concretamente vuol dire che se vuol dire che se i danni sociali e il numero di morti dovuti a faccio un esempio mafia a malfunzionamento statale a fabbriche che uccidono i dipendenti a tutta questa roba qua è percentualmente superiore a femminicidi casalinghi e cose del genere che sono in realtà in percentuale non è che bisogna parlare bisogna parlare nella percentuale adeguata adeguata secondo quale criterio? quello statistico critori logici statistico danni statistico allora lui sta dicendo anche statistico ho capito lui sta dicendo che noi dobbiamo fare una graduatoria praticamente e vedere per esempio di cosa si muore in Italia incidenti sono morti problemi e quindi ok la morte tragica di una donna ha un impatto sociale molto limitato è molto più grave l'ILVA che ha aumentato no e invece tu hai detto quantitativamente quanti sono quante sono le persone quante sono le persone scusa non lo sai ok su Amanda Knox andiamo avanti da due anni ho capito ma scusami fatte 24 ore le ore all'interno del giorno no 24 per 7 fa x ore giusto? c'è il programma di talk di approfondimento che si occupa dell'ILVA e l'ILVA con tutto il rispetto l'abbiamo vista in tutte le salse e in tutte le dimensioni in tutte le dimensioni voglio dirti che poi ogni programma ha il proprio taglio capito? io non mi posso occupare di ILVA perché il mio tipo di programma ha un taglio che si occupa di fatti di cronaca che riguardano soprattutto dinamiche familiari ma all'interno della stessa rete ci sono programmi che si occupano dei disagi di persone che subiscono delle ingiustizie da parte dello Stato di persone che perdono della disoccupazione della questione di sicurezza cioè ci sono dei palinsesti ogni rete ha un palinsesto dove ha una serie di programmi poi tu dici per me ma non è stati perché non è proporzionale alla situazione reale il palinsesto è sbagliato perché non è proporzionale alla situazione reale non rispecchia la realtà dei fatti perché perché tutti devono portare tutti devono pagarsi il mutuo a casa amico mio amico mio la gente ti faccio un esempio le violenze che all'interno delle mura domestiche contro le donne contro gli anziani e il monte di queste di queste violenze è estremamente inquietante superiore a qualsiasi aspettativa ok le centinaia di migliaia di donne che subiscono violenze che non le denunciano sentendo parlare in televisione delle donne e parlare di questi casi questo aiuta loro a denunciare ancora e a denunciare sempre ok se no noi ci chiudiamo in una mera scusami ti faccio in una mera statistica che non si va da nessuna parte poi quando ci sono delle emergenze quando ci sono l'isis quante vittime fa l'isis in Italia allora non ne dovremmo parlare è diverso ho detto impatto sociale l'isis ha un impatto sociale globale l'isis ha un impatto sociale globale guarda ti posso dire una cosa non ho detto statistica ti posso dire una cosa no io non ho detto che bisogna solo guardare quello che c'è in Italia anche l'impatto sociale ma l'impatto sociale l'impatto sociale dell'isis è gigante per te per me è più l'ilva per me è più l'ilva per me è più l'impatto sociale l'ilva dell'isis ma no ma perché l'isis è un impatto sociale mondiale globale a livello globale si fanno saltare in Germania e i morti di tumore non sono in tutto il mondo non sono la prima causa di morte in tutto il mondo ma io non ho mai negato una cosa del genere no te lo sto dicendo io che per me è più importante l'ilva dell'isis per te no per quell'altro si dai allora cosa prendiamo guardiamo il bollettino dei morti per capire l'impatto sociale capisci adesso non voglio essere volgare e farti dei riferimenti che sarebbero come dire i rispettosi della sede dove siamo ma tu stai parlando di un elastico non stai parlando di equazioni di algebra pura di matematica stai parlando di un elastico l'impatto sociale per te è diverso dall'impatto sociale per lui non siamo tutti uguali per te l'immigrazione ha un impatto sociale nel nostro paese o no? si è gigante 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 e cosa bisogna fare con gli immigrati? non sono un politico non lo sai ma il problema che gli immigrati portano le malattie è una demagogia o è un problema vero? è un problema reale che portano le malattie in Italia? si è capitato è capitato ma è un problema è un problema che ha una rilevanza o è uno strumento politico? ha una rilevanza che non spetta a me giudicare ah ecco quindi non ha impatto sociale io sono figlio di ematologa c'era colera a Napoli 15 anni fa Massimo portato no 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 sono riaperti i focolai si furono riaperti i focolai di colera a Napoli è un impatto sociale spetta 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 amico mio spetta ho capito innanzitutto grazie che ti scaldi così perché adesso non sono non sono ironico sono molto serio innanzitutto mi piace il vostro come dire la vostra tempra ok? perché voi se volete fare questo lavoro dovete avere esattamente la tempra che ha lui cioè questo è un lavoro dove bisogna sentirlo dentro punto primo secondo secondo punto lui fa secondo me degli errori nel senso che il bouquet il carnet la programmazione il palinsesto di un'emittente televisiva o delle emittenti televisive sono proprio attenti a quello che tu dici all'impatto sociale di questi degli argomenti e tu trovi credo quanti canali abbiamo in Italia qualche migliaio no? oh allora io mi ho perso il tempo che risuono adesso? 13.20 quanto abbiamo ancora? dov'è? quanti? vabbè facciamo no io poi perdo il treno però Cecilia come facciamo? vabbè allora adesso chiedo a voi volete che vediamo un pezzo del programma 5 minuti e lo commentiamo volete che continuiamo questa conversazione che abbiamo iniziato o volete che prosegua andando ad affrontare altri temi veloci vediamo e proviamo ok per l'audio ci pensi tu no? no 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 spaghetti vongole prezzemolo aglio aglio vino mozzarella pane sono questi gli ingredienti dell'ultima cena di Gianna una cena consumata nel giardino di casa una cena a un tavolo esattamente come questo e attenzione perché secondo gli inquirenti sarebbero proprio gli ingredienti a svelare il giallo che nasconda la verità sul delitto di Gianna la professoressa di Seriate e allora dobbiamo chiederci se è stato il marito a uccidere la moglie se è stato appunto il tonino a uccidere la professoressa uomini contro donne che è il titolo della nostra puntata di questa sera troppo spesso gli uomini sono contro le donne pensate alla storia di questa settimana Michele contro Nadia abbiamo ancora Salvatore contro Mariella poi Freddy contro Isabella ma ci sono anche uomini contro donne anche dove anche a Ravenna sentiamo il nostro Remo Croci subito Matteo contro Giulia lui avrebbe ucciso lei il dermatologo di Ravenna che si trova da ieri poco prima di mezzogiorno è stato trasferito da Firenze nel carcere che vedete alle mie spalle qui a Ravenna noi siamo in grado di mostrarvi le fotografie che sono state scattate al suo arrivo qui nel carcere Romagnolo e potete anche voi vedere che sul volto del dottore non ci sono più quelle ferite nelle fotografie che vi avevamo mostrato sette giorni fa al suo arresto proprio quelle ferite sul volto sono sparite torneremo a collegarvi collegarvi qui da Ravenna per altri importanti aggiornamenti sul delitto di Giulia e il difficile rapporto tra uomini e donne potrebbe nascondere il movente dell'omicidio del piccolo Loris un minuto vi voglio tutti insieme stasera allora questa è l'anteprima che dura due o tre minuti parte da simboli l'avete visto abbiamo iniziato facendo vedere magari qualcuno può anche sorridere di voi dei a rullo degli ingredienti questo perché questo perché perché è l'accesso alla storia al racconto che tu fai in questa puntata in buona sostanza si sta parlando di un omicidio a seriate l'omicidio di una professoressa Gianna questa professoressa viveva col marito fino al giorno prima Gianna postava su facebook le fotografie del marito con i cuoricini ci amiamo troppo 30 anni di amore insieme una sera dopo cena è stata uccisa nella sua villetta con un cat tagliata la gola e c'è il marito che è il principale e unico indagato a piede libero è indagato ma non è stato arrestato lui nega di essere l'assassino della moglie gli investigatori hanno ricostruito con attenzione quell'ultima cena prima di essere uccisa nella sua cucina mentre lui apparentemente da quanto racconta l'Antonio dava acqua alle piante perché abbiamo iniziato con gli alimenti se non è una bieca spettacolarizzazione no? giusto? una spettacolarizzazione cosa c'entra gli alimenti con l'omicidio il tomino il tomino potrebbe averla uccisa dice la nostra amica e peccato che gli ingredienti caro amica mia sono al centro dell'indagine tu scuoti la testa perché probabilmente di queste indagini sai avendo il papà che fa i carabiniere asserriate sai ogni dettaglio però forse qualcuno te ne sfugge perché questa questa indagine questa indagine vedete gli inquirenti stanno valutando un fatto stanno valutando cosa si è mangiato quella sera perché l'arma del delitto che è fondamentale per ricostruire il delitto stesso è stata ritrovata pochi giorni fa all'interno di un sacchetto questo sacchetto era un sacchetto di mozzarella quelle che portano le mozzarella che contengono le mozzarella questo sacchetto era all'interno di una siepe all'interno di questo sacchetto c'era l'arma del delitto e c'erano i guanti che probabilmente ha usato l'assassino per commettere l'omicidio adesso stanno facendo l'esame del DNA su tutti questi oggetti per capire se ci sono impronte anche perché se il cultello era nella disponibilità di questa famiglia cioè nella cassetta degli attrezzi non è detto che se ci sono le impronte del marito è ovvio che ci sono le impronte perché lui lo usava hanno trovato un DNA non del 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 marito sull'esterno dei guanti di chi è questo DNA non lo so stanno facendo in questi giorni gli esami raccogliendo il DNA dei vicini la tavola imbandita che è una come dire una suggestione televisiva che a lei la nostra amica può non piacere benissimo serve per accedere però questo sì in un racconto un racconto di una storia di una tragedia dove si sta cercando di capire chi ha ucciso questa professoressa gli ingredienti sono importanti perché per esempio all'inizio si pensava che questo signore avesse bevuto in maniera eccessiva gli hanno fatto l'alcol test il sacchetto nel quale erano riposte queste mozzarella è importante ed è una cosa che non era non era emersa con forza nei primi nella prima raccolta di informazione fatta dagli inquirenti poi si stacca avete visto c'è una telecamera alta che corre da uno studio all'altro io sono nello studio bis lo chiamiamo lo studio degli approfondimenti della scienza stacca perché permette di avere una visione dall'alto che supera quel muro l'avete visto? ed è un effetto ottico io nel frattempo passo nello studio centrale e arrivo alla mia postazione l'anteprima cosa serve? serve per dare dei flash sugli argomenti che tu vai a affrontare durante la puntata ogni puntata ha un titolo noi abbiamo dato la puntata a uomini e donne quando abbiamo parlato nella nostra riunione del lunedì del martedì perché poi c'è uno anche del martedì in realtà io volevo fare un altro titolo volevo fare maschi e donne non uomini e donne che è un po' diverso no? giusto? però televisivamente non sarebbe stato di immediata percezione perché maschi e donne implica una riflessione un passaggio di riflessione e non ha l'immediatezza anche se secondo me non sono uomini e donne ma noi parliamo di maschi e donne poi c'è un collegamento Remo Croci è collegato davanti a una casa davanti a un carcere scusate dove è detenuto questo signore Cagnoni che è stato arrestato ma anche questo è un marito che è stato arrestato a Firenze dopo che era scappato da Ravenna dove vive con la moglie ed è accusato di aver ucciso la moglie poi ci sono dei supporti di immagini ci sono delle immagini di lui che entra nel carcere le fotosegnalettiche che fanno all'incarcere perché sono importanti quelle fotosegnalettiche l'ha detto Remo Croci perché abbiamo fatto una comparazione abbiamo fatto vedere che altre foto che noi avevamo mandato in onda cosa succede? succede che lui quando lo arrestano a Firenze lui è pieno di escoriazioni sul video e sul volto e sul petto scusate gli inquirenti ritengono che queste escoriazioni siano frutto di una di una collutazione che lui ha avuto con la moglie che aveva ucciso e lui dice no non è così quando io vi ho visto la polizia mi sono preso la paura perché avevo già avuto un'esperienza negativa con le forze di polizia quindi sono uscito sono scappato sono andato in mezzo a dei rovi mi sono graffiato questo signore attenzione ha X lauree è un signore al di sopra di ogni sospetto nell'apparenza e infatti noi mandavamo in onda le fotosegnalettiche dell'arresto e lui aveva appena arrestato queste escoriazioni poi abbiamo mandato in onda queste altre fotografie nell'ingresso del carcere e queste fotografie ultime le abbiamo mandato in onda per rimandare il nostro telespettatore a un ricordo che lui ha già perché già gli avevamo mandato in onda di quelle precedenti immagini poi cosa c'è in questa anteprima ci sono degli anticipi uomini contro donne no freddi contro Isabella io faccio dico dei nomi evocativi di casi di storie che permettono al telespettatore di ricordare di ricordarsi e di capire quali sono gli argomenti che andremo a sviluppare durante la puntata i principali o alcuni di questi tutti i programmi o quasi tutti fanno quella che si chiama anteprima un'anteprima che dura 2-3 minuti 4 minuti chi l'ha visto per esempio ha un'anteprima più lunga dove dai delle notizie dai delle immagini l'altra volta abbiamo mandato delle immagini di un documento video che è agli atti di un processo quello proprio dove si parlava di questi due ragazzi uccisi fuori dalla palestra a Pordenone abbiamo dato un video che riguardava la persona Giosola Ruotolo che oggi è a processo per omicidio prego sono Natalia un attimo non si sente funziona ok qual è la sua libertà come giornalista soprattutto come giornalista televisivo la prima menzionava anche la necessità di scegliere un altro nome anche solo per un titolo per avere maggiore impatto diciamo televisivo più che impatto televisivo è per chiarire l'argomento che andiamo a trattare cioè la libertà è quella di farsi capire da chi ti da maggior numero di persone che ti seguono io volevo fare faccio un esempio volevo fare ma dico una piccola cavolata ma per farvi capire volevo fare maschi e donne perché chi uccide chi ferisce chi usa violenza non è un uomo per me è un maschio non è una bestia perché bisogna rispettare gli animali è un maschio di sesso maschile maschi e donne però questo a parte che era un po' il suono non era molto bello non era molto piacevole nell'ascoltarlo non era troppo diretto capito ma la libertà la libertà è assoluta siamo un gruppo di lavoro e lavoriamo però più volte lei ha detto che comunque le storie appunto hanno necessità di essere storie nelle quali ci si può immedesimare quindi ovviamente immagino che ci sia una grande quantità di storie che non possono essere raccontate sì ma la gente vuole capire e tu per farle capire devi dargli dei corridoi per interpretare i fatti che consentano una narrazione e la narrazione stessa che consenta di capire se tu ti parli di una storia che loro è lontana se tu ti parlassi adesso ma se ti parlassi di problemi che hanno le minoranze caucasiche in Cina tu magari ti interessa però molti di voi no non è assoluta ma secondo me è assoluta perché il desiderio è quello di informare non è quello di informare sulle minoranze caucasiche almeno per quello che mi riguarda va bene il tuo collega sì Filippo allora ha detto immediatezza del titolo maschi e donne invece è stato sostituito con uomini e donne che richiama un altro celebre programma però della televisione sempre media infatti vi sono detto speriamo che non si offenda perché non era ovviamente l'intenzione di offenderla ah non si doveva offendere lui no dico lei è una conduttrice il programma ok il programma intendevo perché secondo me c'è un altro no cioè no dilla dilla cioè tu pensi che l'abbiamo fatto per rievocare un programma di quello è un programma di intrattenimento assolutamente però c'è da dire questo c'è da dire che come dicevale prima l'audience è importante no anzi anzi è contrario è contrario se tu evochi una cosa che è estranea completamente al al contenuto del e al format televisio confondi e irriti cioè se tu mi parli e beh così poi tu la puoi pensare come vuoi ma se tu mi parli di uomini e donne che è un programma di intrattenimento e nel telespettatore che è lì perché sai cosa diceva Santoro diceva che il telespettatore vuole la messa cantata e sapete cos'è la messa cantata Michele Santoro no? Michele Santoro ecco che è un gigante perché credo che Michele Santoro sia ritenuto in televisione un gigante cioè un uomo da palcoscenico un uomo che sapeva stare intrattenere raccontare la messa cantata perché il pubblico vuole esattamente sempre le stesse cose tu puoi portarlo su anche una storia nuova ecco ecco vedi mi fai parlare anche di altre cose vuoi portarlo su una storia nuova ma per la storia nuova gliela devi spiegare piano piano passo dopo passo questa è la televisione nel nostro paese è così è così mi sembra che si stia andando un po' troppo piano quello era la mia la mia domanda per lei era questa amico mio amico mio dal caso come si chiamava il bambino nel pozzo al vermicino al fredino esattamente da da pertini su sulla rai che che capito fa da questo spartamento possiamo dire voi potete considerare vedete questo qui allora tu puoi non riconoscerti magari nel pubblico dice io secondo me questo programma ha un ritmo che non mi piace ha dei contenuti che non condivido ma non siamo qui io ve l'ho detto all'inizio questa lezione non l'hanno fatta credo i nostri amici per se noi a noi piace o meno questo programma perché questo è importante ma è marginale con molto rispetto lo dico la mia domanda era per lei era se ma non è ma non è non so è come se tu mi dicessi ma secondo te c'è un numero come se tu dicessi tu sei contento dello sviluppo ma io ti dico guarda sono così perché dieci anni fa c'erano molte cose che oggi non ci sono c'era una varietà di scelta molto inferiore io quando avevo la vostra età avevo una possibilità di accesso all'informazione che era molto più ridotta di quella che avete voi paradossalmente si guardano le stesse cose e vengono scelti gli stessi nomi per programmi non è vero no non è vero questo perché se tu guardi gli ascolti sono diversi una volta la televisione aveva degli ascolti molto alti oggi la televisione ha degli ascolti inferiori perché? perché c'è una pluralità di informazione e c'è una diffusione negli Stati Uniti per esempio adesso arrivo negli Stati Uniti ci sono vi ho visto negli Stati Uniti ci sono i programmi fanno ascolti molto più ridotti di quelli da noi negli Stati Uniti e questo ve lo dico ci sono alcune serie televisive che fanno più accessi su internet che hanno delle anteprime su internet che fanno più accessi in internet di quanto poi vengano come dire poi del numero di telespettatori che raccolgono quando sono nel piccolo schermo prego allora ha nominato che la tv non so dieci anni fa era diversa da quella che c'è odierna ho detto che come offerta c'era come strumenti di formazione oggi sono più superiori di vent'anni fa sì però trent'anni fa voglio fare una mia considerazione che ho notato vabbè essendo piccoli magari certe cose non si ricordano però io ho notato andando avanti nel tempo che secondo me c'è stato un tasso più alto di incidenti o di notizie comunque che parlano non so tizio ha ucciso caio eccetera molto di più che un tempo può essere che sia come esplosa erroneamente chiamandola una moda dell'uccidere una persona o non lo so no io credo che non ci sia una moda dell'uscita di una persona interessarsi in questo caso ma che c'è un problema vedete in Italia ecco il nostro amico voleva le statistiche allora in Italia per esempio le statistiche sugli omicidi in Italia gli omicidi negli ultimi trent'anni sono calati sono calati gli omicidi di mafia sono calati gli omicidi legati alla criminalità però i femminicidi nella scomposizione dei dati è rimasto sempre nello stesso numero vuol dire che la prevenzione che è stata fatta su una serie di segmenti non so io non sono un'esperienza di testa statistica di questo dato del numero di omicidi vuol dire che l'azione è fatta preventiva apparentemente poi uno mi può dire ma non è vero Nuzzi perché la mafia non uccide più perché fa accordi con i colletti bianchi quindi c'è un apparente pax sociale perché si fanno affari tra di loro non c'è bisogno che si ammazzino ok va bene sicuramente sarà così però se noi guardiamo solo il dato degli omicidi perché poi è come un elastico lo puoi girare come vuoi però se tu guardi solo il dato degli omicidi gli omicidi sono calati però i femminicidi no allora cosa è successo che c'è stata una alta sì attenzione sociale rispetto a questo problema una volta non se ne parlava ragazzi ma i vostri genitori quando erano bambini avevano in Italia il delitto d'onore cioè non dimentichiamoci da dove arriviamo il delitto d'onore che è una cosa che è quasi tribale noi siamo una repubblica molto giovane e infatti abbiamo in termini sui femminicidi nello specifico una delle leggi secondo me tra le migliori oggi però la legge e qui mi ricollego al nostro amico la legge non è il paese non è che se c'è una legge tutti la rispettano ma molti non sanno nemmeno che è una legge nel nostro paese ci sono delle donne che telefonano ai programmi al mio programma e dicono io non denuncio mio marito che mi emena tutti i giorni perché ho paura di perdere i figli o perché non lo denuncio o perché sarebbe uno scandalo nel paese e io passerei dalla parte del torto questa è la situazione Luzzi intanto grazie per l'onestà intellettuale questo lo devo dire perché lei ha aperto comunque oggi dicendo io lavoro per Mediaset io arrivo alla pancia e questo non viene detto altrove ad esempio in Rai che farebbero dovrebbero fare servizio pubblico eppure magari fanno dei montaggi ad hoc che l'ho visto fare con i miei occhi magari anche in trasmissioni auliche come Report o altre dove viene diciamo traslato un messaggio per arrivare per arrivare comunque alla pancia anche se questo non ci viene detto e se molto probabilmente oggi abbiamo il governo che abbiamo e anche perché da quel lato hanno fatto un determinato tipo di lavoro io questo lo penso e continuerò sempre a dirlo infatti lo disse anche Scanzi quattro anni fa e comunque eravamo in pochi a pensarla così non per vantarmi però secondo me è così per diciamo spezzare il discorso per non venirle contro perché non avrebbe senso cosa pensa del programma della Leosini e se quel tipo di racconto potrebbe essere fatto anche diciamo da lei con quella tipologia di di narrazione allora la Leosini fa un programma dove lo sapete va nei carci incontra una persona detenuta in via definitiva siamo stanchi? no cinque minuti in via definitiva per un reato un reato di sangue fa una grande intervista e ricostruisce il caso giusto? allora secondo me la Leosini io ho sempre l'ho sempre indicata e ne sono convinto come una giornalista che fa è come dire è la il negozio della dell'artigiano lei ha un rapporto con la notizia che è quello dell'artigiano cioè lei fa tutto lei non ha redazione è un artigiano nel 2016 quindi fa un prodotto qualitativamente di valore e è un prodotto artigianale solo che ci mette quel bon ton quel sour faire che fa la differenza però dico alla fine fa lo stesso senti io credo credo che immodestamente un po' di un po' di bon ton l'hanno insegnato anche a me da bambino era anche una critica sì ma sì ma quelli sono i modi di guardate che non è la perfezione che fa la televisione è l'imperfezione mi sembra mi sembra che voi siate lo dico alcuni di voi siano un po' come dire troppo legati a è l'imperfezione che fa che caratterizza il personaggio vi faccio un piccolo esempio voi siete giovani per vostra fortuna vi ricordate magari l'avete letto Ronald Reagan il presidente degli Stati Uniti che era un attore che è diventato presidente degli Stati Uniti a casa bianca ecco pensate che lui questo signore quando era presidente degli Stati Uniti è dubito che oggi non ci sia più quell'ufficio del quale vi sto per dire alla casa bianca quando c'era Reagan presidente degli Stati Uniti c'era un ufficio che si occupava solo amico mio di finti incidenti Reagan che scende le scalette dell'aereo e che inciampa davanti a una davanti a tutte le televisioni americane e la gente ride a casa guarda il presidente che inciampa era voluto provocato architettato lui che prende il bambino e lo saluta prende il neonato il ragazzino lo saluta gli dà un bacino sulla guancia un buffetto e il bambino mannaggia fa la pipì sulle mani del presidente degli Stati Uniti d'America era voluto c'era un ufficio alla casa bianca che si occupava solo dei finti incidenti del presidente degli Stati Uniti d'America gente che era pagata con i soldi dei contribuenti americani per far sì che i contribuenti americani umanizzassero e avessero un bel rapporto empatico perché se fa lui che inciampa posso inciampare anch'io che non sono nessuno che mangio le patatine e corro sul tappiero rullando avanti la tv in Inghilterra e lo dico in conclusione di questo incontro bello battagliero e questo mi piace e questo mi piace in Inghilterra Nox 3 ex amici inglesi diciamo per certi versi nei servizi segreti inglesi c'è un ufficio che si occupa il titolo il nome vi dico simulazione disinformazione e operazioni psicologiche simulazione disinformazione e operazioni psicologiche quando c'era ancora il muro di Berlino una volta vado dal mio amico dell'impatto sociale quando c'era il muro di Berlino e c'era la Germania divisa in due c'era la Germania orientale legata al patto di Varsavia quindi la Germania comunista se vogliamo e c'era la Germania occidentale legata agli Stati Uniti un giorno in Germania occidentale si svegliarono una bella mattina e trovarono alcuni cimiteri ebraici profanati c'erano le lapidi delle tombe degli ebrei rotte alcune altre c'erano disegnate delle svastiche sopra con la vernice tutti una questa non è una notizia di grande impatto sociale amico mio torna il nazismo chi sono i neonazisti con le teste rasate per altri motivi dei miei tornano nella Germania che un tempo c'era Hitler giusto profanati i cimiteri ebraici cazzo è stata una notizia che ha fatto il giro del mondo e ha sputtanato la Germania occidentale come i tedeschi ancora ci sono dei tedeschi che fanno il saluto romano e vogliono Hitler dopo quello che è successo ai 6 milioni di ebrei morti 2000 dollari è costata questa operazione di sputtanamento internazionale secondo me anche meno secondo me 500 dollari prendete delle tanniche di vernice da qualche chilo no? quanto costa? prendete la benzina per andare in giro in questi cimiteri e fu un'operazione che era stata fatta dai servizi segreti della Germania orientale non c'entravano un cazzo le teste rasate magari ci sono anche sono tremende allarme sociale impatto tutto quello che vuoi ma in questo caso fu un'operazione di intelligence per minare la credibilità in quel momento storico della Germania occidentale non ci darà nulla la politica sono stati un gruppo di agenti della polizia segreta della Germania orientale allora io lancio una provocazione ai miei amici della scuola Holden che un giorno se vi va parleremo di quella che è informazione e quella che è disinformazione cioè di come c'è il rischio sempre della manipolazione ma questa come dice qualcuno è un'altra storia grazie 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 grazie